Imeris Domodossola ha partecipato alla quinta edizione di Fabrica Aperte, Piemonte. Stabilimento che produce abrasive artificiali, Imeris è una storica realtà domese, nata nel 1917, anno in cui la famiglia Galtarossa cominciò la produzione di ferroleghe utilizzate nell'industria siderurgica. Ingegner Fausto Tacchi di Imeris Nova Vitara Hybrid è qui. Suzuki e tecnologia da incentivi fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki